ciao amici di napoletà io sono completamente senza parole allora io voglio iniziare questo video dicendo una cosa allora abbiamo capito il presidente dell'aurentis i cori contra dell'aurentis ci meritiamo di più ma io in questo video non voglio parlare proprio della proprietà perché raga qua se no secondo me stiamo andando un po troppo distante da quello che è il reale problema in questo momento allora va benissimo perché poi la manifestazione che è stata fatta giustamente al maratona parlava anche ai calciatori e però poi venivano fatti cori alla presidenza come giusto che sia ma io vedo dei calciatori imbarazzanti allora io vi voglio spiegare una cosa la questa partita il napoli la potreva vincere veramente con serenità perché nel primo tempo il napoli ha tirato 5 barra 6 volte in porta poi andrò a vedere con più calma la partita ma realmente quando è che prendiamo prima di tutto i veri responsabili di questa stagione raga basta e oggi ci metto anche l'allenatore assolutamente ci metto anche l'allenatore perché abbiamo parlato male di garzia abbiamo parlato stramale di mazzardi ma oggi c'è la parte anche per calzona importantissima al di là che ci sono calciatori raga che sono realmente imbarazzanti ma anche fastidiosi non me ne vogliono raga c'è il capitano attuale del napoli che probabilmente non ha capito che che maglia indossa ma questo non è per da di pressione però realmente il suo atteggiamento è irritante è irritante è al di là che possono essere al di là degli errori tattici o tecnici va perché tattici tecnici buttiamo tutto dentro l'atteggiamento è un qualcosa di vergognoso ragazzi è ora il momento di prendercela con tutti dobbiamo fare sperare in una vera e propria rivoluzione perché questa squadra in questo momento è impresentabile non riesce mai a capire quando sta per prendere gol raga il secondo gol io non ne voglio proprio parlare il primo possiamo anche buttare la croce su meret ma meret paradossalmente ad oggi è l'ultimo dei problemi tanto io già lo so che se la prenderanno tutti con meret il rigore l'ha parato poi c'è stato quell'errore che è un errore di concetto poi sul secondo gol non c'è nessuna sua responsabilità ma ci sta anche perché ovviamente io non voglio e non ho mai difeso nessun calciatore del napoli ma raga però attenzione a non andare solo sul portiere perché ci sono state prestazioni imbarazzanti victor rosimè 130 milioni a va bene ma non si può sbagliare un gol del genere non si può avere un primo tempo con quell'atteggiamento cioè io devo vedere un primo tempo giocato discretamente dove l'unico che accende la spia è politano e poi quara scheria si vogliamo parlare male di quara scheria ma se la palla lì non ci arriva mai nel primo tempo abbiamo visto che giocando a destra anche di francesco ha spostato il suo difensore dall'altro lato proprio perché si sviluppava solo di là perché non andare di qua perché questa squadra non gioca da squadra ragazzi è questo quello che ha detto anche calzona nel secondo tempo scusatemi nel post partita sono in completa confusione raga questi calciatori devono andare via via li amiamo li adoriamo dietro di me uno scudetto che non dimenticherò mai ma basta non possono far più niente per il napoli niente zero è un atteggiamento irritante di tutti nessuno escluso anzi voi nei commenti potete dire la vostra ma basta dare alibi a questi calciatori ci hanno fregato per tutta la stagione basta siamo alla 32esima voglio perdere 5 a 0 con l'empoli ma nessuno di questi deve giocare titolare nessuno manco dosi man nessuno e andiamo su calzona mister ma tu se stai ma veramente sul 2 a 2 col frosinone sto pure affogando tu metti cajust ma stiamo scherzando due a due in casa col frosinone ma metti tutte le addetti rasfatori si metti tutti io odio l'arrembaggio però basta mister basta non si può non è accettabile non è accettabile lo so benissimo perché c'è esperienza del calcio che un gol un pareggio un risultato cambia la storia di un club ma i messi i segnali sono stati troppi quest'anno allora ma rimaniamo il martire quello che deve essere attaccato 24 ore al giorno che aurelio dell'aurentis ma non ci discostiamo tanto da quella che invece la verità assoluta che quella che questi calciatori non sono adeguati se vuoi avere una squadra con ambizioni qualsiasi loro siano e oggi lo hanno dimostrato ulteriormente perché non è accettabile non sono accettabile determinate prestazioni quelle di anghissà che nel primo tempo sembrava diciamo un po in giornata completamente scomparso zielischi che si è mangiato dei culi davanti alla porta da solo perché non ci sono con la testa e allora se ci volete distruggere non è non è corretto non è corretto perché non c'è nessun tipo di ragionamento che possa tenere noi ogni volta che arrivano nella nostra tre quarti prendiamo gol la media di due con la partita ma stiamo scherzando e c'è una responsabilità incredibile dei calciatori e non voglio togliere nessuno perché quest'anno possiamo ecco dove tocchiamo tocchiamo facciamo bene perché responsabilità è totale ma raga non si può accettare dove ancora uno stadio è lì con 50.000 persone io voglio vedere che vi rompete le braccia vi rompete le gambe invece no no sempre prestazioni con sufficienza sempre perché forse avete preso come unico responsabile la proprietà come unica responsabile allora ve ne frega fate giusto io vedo di fare il compitino non è accettabile io so come un pazzo so proprio andando fuori fuori di me perché non non so cosa va sicuramente stasera alle 23 ci sarà la post match probabilmente sono un po più tranquillo ma vi invito stasera a dire la vostra voi iniziate a scrivere i vostri commenti qua fatemi capire chi è per voi il peggiore in campo cioè che come si può di come si può fare una pagella su una partita di questo è al di là del risultato lo so che magari se il napoli vinceva ora stavamo ancora sperando ma ma lungi io già avevo paura solo di immaginare una una un obiettivo per il finale di stagione dopo sta partita non mi permetterò manco più di pensarlo però questa prestazione è inaccettabile raga è inaccettabile è inaccettabile questa è l'unica parola che mi va di dire raga non lo so so come un pazzo e per me devono andare via tutti la prossima voglio vedere tutti di me non me ne frega e l'anno prossimo non voglio vedere più nessuno raga mi dispiace ma non voglio vedere più nessuno nessuno cambiateli tutti cambiate rischiamo di arrivare all'ottavo posto ma cambiamoli tutti cambiamoli tutti e probabilmente quella rivoluzione che è stata fatta per prima dell'avito dello scudetto va fatta sempre raga prendete esempio da questa stagione anche se il napoli dovesse vincere lo spero al più presto qualche altra cosa tutti in discussione ogni anno anche se il capo cannoniere o simen l'anno dopo hai qualche dubbio via via tutti raga via tutti faccio un abbracciato ci vediamo stasera alle 23 va giusto so come un pazzo